Sabato, al nord la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con molte nubi e locali precipitazioni al nord-est. Ci saranno maggiori schiarite soleggiate sul resto delle regioni. Domenica, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà più sereno al nord-est con più nubi invece al nord-ovest. Clima mite. Al centro, tempo a tratti instabile. Giornata con una maggior probabilità di piogge e temporali sulle regioni adriatiche, ci sarà un cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Domenica, pressione in ulteriore aumento. Giornata che trascorrerà con un cielo a tratti nuvoloso sui settori tirrenici e sugli appennini, sarà più sereno altrove. Venti da nord. Al sud, instabilità locale. La giornata trascorrerà con una maggior probabilità di piogge su Campania, Puglia e coste tirreniche calabresi, ci sarà più sole sul resto delle regioni. Domenica, pressione in aumento. In questa giornata non ci saranno grosse precipitazioni, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso su tutte le regioni. Venti da nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.